Baby Bazaar dai numeri, Alessandro Giuliani, azione! Ciao a tutti, sono Alessandro Giuliani e oggi vi presento qualche dato legato alla vita di Baby Bazaar nel 2021. Abbiamo fatto più di 20.000 clienti nuovi che hanno deciso di sposare la filosofia di Baby Bazaar, quindi essere più sostenibili con i loro consumi, allungando il ciclo di vita dei prodotti dei loro bimbi e addirittura risparmiando risorse perché hanno evitato la produzione di prodotti nuovi. Questi sono un po' di numeri che Baby Bazaar ha contribuito e ha creato all'interno del nostro territorio. Quindi abbiamo detto più di 20.000 clienti, 5.832 persone in più che ci seguono su Facebook, quindi la nostra community dove pubblichiamo notizie, dove pubblichiamo tutta la vita di ciò che succede all'interno dei negozi. Però se ci concentriamo su dei valori un pochino più legati alla sostenibilità, ad esempio la CO2, e abbiamo ipotizzato, secondo quella che è la letteratura, di andare a risparmiare 2 kg per ogni maglietta che riutilizziamo, 33 kg di CO2 per ogni paio di pantaloni che riutilizziamo e 13 kg di CO2 per ogni paio di scarpe, il gruppo Baby Bazaar ha contribuito a risparmiare 5,4 milioni di chili, che sono un numero immenso e per giusto capirlo un pochino meglio, corrispondono a 12.385 voli da Roma a New York. Questo per quanto riguarda la CO2. Poi abbiamo fatto altrettanto bene con l'acqua, perché la maglietta, abbiamo considerato che la produzione di una maglietta sono 2.700 litri di acqua, la produzione di un paio di pantaloni consuma circa 10.000 litri di acqua e un paio di scarpe consumano circa 14.000 litri di acqua. Quindi anche con l'acqua abbiamo risparmiato 2,5 miliardi di litri, che sono anche questo un'esagerazione, e se vogliamo fare un rapporto con la vita di tutti i giorni, sono circa 16 milioni di vasche. Quindi probabilmente io nella mia vita 16 milioni di vasche da bagno non le ho mai neanche utilizzate, quindi pensate che enormità di acqua stiamo parlando. Abbiamo una community con una newsletter, quindi dove inseriamo, dove mi inviamo le notizie, dove mi inviamo un sacco di cose, sono circa 84.000 iscritti, insomma è un invito. Veniteci anche voi a trovare nei negozi, iscrivetevi sui social o comunque seguiteci a livello internet perché Baby Bazaar cambierà il mondo e noi siamo qui per questo. Ciao! Grazie! 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 Grazie!